Yo Willers, buah a tutti e bentornati sul canale, come sempre qui è il vostro Alas che vi parla, piacere di rivedervi, siamo qui per il round numero 10 della nostra ultima stagione in Formula 1 e ultima stagione della carriera ovviamente qui su Motorsport Manager, episodio numero 127 della serie con Alas Adamson alla guida della 1&1 Racing Team. Ovviamente se non avete visto l'ultimo episodio, il round numero 9, il GP di Toronto in Canada, cliccate in questo momento nell'angolo in alto a destra e recuperatelo prima di dare un'occhiata a questo episodio. Bisogna dirlo, siamo veramente una scuderia ormai formidabile, 1-2 anche nell'ultima gara con una splendida strategia a una sola sosta, siamo partiti abbastanza bene, non abbiamo perso così tante posizioni e poi la strategia ha fatto il resto con un Charles Leclerc, che è veramente sensazionale, il miglior pilota avuto in carriera a mani basse. Lo sapete, io sono un ferrarista, adoro il monegasco, spero che possa rimanere a vita anche se a questo punto, viste le vicissitudini della Ferrari, non so se possa essere così, però lo volevo e ho fatto benissimo a prenderlo in questa ultima stagione della carriera perché grazie a lui e grazie a un Tio Purcher comunque straordinario come secondo pilota stiamo raggiungendo quegli obiettivi che avevamo dall'inizio della carriera, di questa carriera lunga se non sbaglio ben 8 stagioni, da partire dalla Formula 3 fino ad arrivare a questa stagione di Formula 1. Comunque, ci siamo dilungati fin troppo, lasciate un bel mi piace per supportare la serie e lasciate un bel commento con il solito pronostico riguardante la prossima gara, il GP dell'Ungaro Ring in Ungheria, prove libere sotto la pioggia, è probabile che si intraveda la pioggia anche magari in una delle sessioni di qualifica, questi gli elementi cruciali della vettura per questo gran premio, lasciate il vostro pronostico qui sotto e ovviamente se non siete iscritti iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti, detto questo non perdiamo altro tempo, Shell che ha un bonus per questa gara di un milione di euro quindi raddoppiato per la gara di Silverstone, selezione delle gomme, andiamo con tante gomme morbide visto che tutte le sessioni, in tutte le sessioni è prevista tanta tanta pioggia quindi 10 treni di gomme rosse, 8 di gomme gialle e solo 2 di gomme bianche, 30 giri di gara, entrambi entusiasti scendiamo in pista per il venerdì di prove libere. Ci siamo Silverstone, prove libere, si parte col sole ma non credo che duri molto, solo alla fine della sessione arriva la pioggia quindi potremo sviluppare tutte le gomme da asciutto, andiamo a modificare il setup delle vetture, come sempre gomma rossa per Vito, gomma gialla per Tio Purcer, prendiamo parte delle nostre prove libere, andiamo a vedere gli stint selezionati per i nostri piloti, assetto da qualifiche quindi gomma rossa corretta per Vito Freire, mentre per quanto riguarda Tio assetto da gara, gomma gialla corretta, mandiamo in pista entrambi, come sempre noi ci rivediamo direttamente per l'inizio del sabato di qualifiche. Terminate le prove libere, si inizia con il sabato di qualifiche, si parte col sole, a fine sessione sarà pioggia quindi scenderemo subito in pista, conoscenze, livello 2 per gomme super morbide e gomme intermedie, livello 3 per le gomme morbide e livello 3 anche per assetto da qualifiche e assetto da gara, ovviamente gomme rosse e assetto da qualifiche per entrambi i nostri piloti e confermiamo la scelta, setup delle vetture, tutto eccellente, 99% per quanto riguarda Charles Leclerc, e 98% per Tio Purcer che ha leggermente il setup fuori dal consigliato, quindi teoricamente migliorando leggermente il setup dovremmo essere al 99%. Confermate le modifiche, proseguiamo, prendiamo parte alle nostre qualifiche e andiamo subito in pista con entrambi i nostri piloti per l'unico giro del nostro Q1. Primo settore per Charles Leclerc, Fucsia, secondo per Tio Purcer, vediamo chi fa il giro più veloce, Charles Leclerc, Tio Purcer, Tio Purcer davanti al compagno di squadra per 112 millesimi, è un tempo buono sicuramente, Novalac sembra molto molto buono in questo fine settimana, ha fatto il miglior tempo nelle prove libere e fa il settore Fucsia nel primo settore, con Leclerc lo usano i Verstappen che sono tutti dietro di lui e noi siamo davanti ad entrambe le Ferrari. Novalac veramente in formissima, primo anche nel Q1, eliminati Yuki Tsunoda per soli tre millesimi da Pierre Gasly, Caio Collè, Robert Schwarzman, Maximus Xagoraris e Christian Lundgaard. Proseguiamo e prendiamo parte al Q2 e vediamo il meteo, si parte col sole, si parte col sole ma credo che ci sia pioggia, no, sembra che non ci sia pioggia in tutta la sessione, qui un dubbio, però penso di voler partire con le gomme gialle, quindi anche se probabilmente si partirà con la pioggia, però partiamo con un giro con le gomme gialle e poi valutiamo in che posizione andremo a piazzarci. Charles Leclerc primo e secondo settore Fucsia, stavolta più veloce del compagno di squadra Tio Purcer, si sta lanciando anche Clement Novalac, quindi valuteremo il suo tempo, Leclerc 1.22.0, Tictum a 196 millesimi, Purcer a 199, quindi a 3 millesimi da Dan Tictum, mentre Novalac ancora primo settore Fucsia. Sembra veramente avere una vettura che è velocissima su questo tracciato, il pilota Mercedes doppio settore Fucsia, primo e secondo settore Fucsia, Novalac sta per andare a tagliare il traguardo, quindi andiamo a valutare il suo tempo, se è molto più veloce rispetto al nostro. Leclerc a 15 millesimi Arthur da Charles, Novalac 4 decimi e mezzo di vantaggio nei confronti del nostro Charles. Charles con gomma gialla, c'è da considerare questo. Il nostro è un ottimo tempo, quindi possiamo tranquillamente rimanere nei box, forse Purcer potrebbe avere qualche problema, però consideriamo che Novalac ha fatto il vuoto dietro di sé. Dobbiamo migliorare per cercare un buon posizionamento in qualifica, questo è sicuro. Novalac si conferma, eliminati Colton Herta, Zen Malone, Guanijou, Lando Norris e Pierre Gasly. Proseguiamo e prendiamo parte a un Q3 che sarà fondamentale e soprattutto combattutissimo. Si parte col sole, vediamo il meteo, dice pioggia a breve, quindi scenderemo in pista solo nell'ultima fase della sessione per il nostro giro con gomma rossa. Due minuti al termine della sessione, io direi di scendere subito in pista. Gomma rossa montata, prima Theo Purcer davanti a Charles Leclerc per provare a tirare la scia al Monegasco e tentare una disperata pole position, ma Novalac veramente sembra di un altro pianeta. Con gomma intermedia, 5 decimi e mezzo ad Arthur Leclerc, è migliorata tantissimo a questo punto la Mercedes perché anche De Giroux è comunque molto su in quarta posizione, mentre crollate le due Ferrari di Tictum e Verstappen in quinta e sesta posizione. È una lotta impari, non sono riscesi in pista, Theo Purcer con Charles Leclerc a giocarsi la pole, ma Charles Leclerc si mette in vetta con soli 66 millesimi di vantaggio sul suo compagno di squadra. Pole position è 1-2 per la 1-1 Racing Team con Clement Novalac in terza. e il suicidio da parte di tutti gli altri non sono scesi nuovamente in pista e noi ci prendiamo l'1-2 con Novalac in terza, Arthur Leclerc in quarta, lo usano in quinta e De Giroux in sesta, le due Ferrari solo settima e ottava con Tictum davanti a Verstappen, poi Russell e Piastri, poi Colton Hertha, Maloney, Zoe Norris, Gaslitz, uno da Collège, Wartman, Xagoraris e Christian Lundgaard. Proseguiamo e scendiamo in pista per la gara. Si parte con l'asciutto, quindi dobbiamo partire con la gomma gialla. È peccato perché forse la rossa sarebbe stata più utile visto che intorno al dodicesimo giro ci sarà necessità di montare la gomma intermedia. Per quanto ci riguarda ora la scelta è difficile, montare gomma morbida o montare gomma intermedia per la seconda parte di gara. Probabilmente puntiamo sulle intermedie perché... Oppure potremmo puntare su gialla con Leclerc per provare a farlo scappare e oppure è probabile che in questa situazione sia Theo Purcher a partire meglio dalla seconda, mentre possa partire un po' peggio Charles Leclerc. Quindi io direi di andare con gomma intermedia per Charles Leclerc e con gomma morbida per Theo Purcher. Possiamo puntare, comunque giocare a due punte, quindi questo è un vantaggio per noi. Andiamo a modificare semplicemente il carburante, ne lasciamo all'incirca 15 giri per poter spingere comunque sul carburante in queste prime fasi di gara. Per entrambi 15 giri, anzi direi 14 forse per Theo Purcher, perché ho la sensazione che Theo Purcher in partenza si possa prendere la prima posizione. Andiamo al massimo in modalità motore alta per entrambi i nostri piloti e iniziamo la nostra gara. 1-2 là davanti, non si vede bene la pista, ora sì, si accendono le luci, 5 luci che si spengono in questo istante. Partono bene entrambi e invece vedete Theo Purcher si mette subito in coda al compagnolo di squadra, però sono felice perché sono partiti molto bene entrambi i nostri piloti. Andiamo a cambiare la visuale, giro molto molto lungo questo, partito molto bene Novalac, dobbiamo fare attenzione ai piloti dietro, partono tutti con gomma rossa, perché comunque la pioggia arriverà molto presto, dobbiamo cercare di difenderci e proviamo subito a scappare insieme a Novalac e Arthur Leclerc con Verstappen che ha guadagnato la quinta posizione ma sta facendo già un po' da tappo, si è creato un piccolo buco, Purcher deve cercare di difendersi da un Novalac che sembra veramente straordinario in questa gara con la sua Mercedes. Giro veloce per Charles Leclerc, 1-23-268, nonostante non abbia il perk, la conoscenza per la gomma gialla sta già facendo la differenza e quindi potrà essere ancora più veloce nella seconda parte di gara quando monterà l'intermedia. Mentre per quanto riguarda Tio Purcher, per ora riesce a tenere dietro i piloti Leclerc che ha passato Novalac e Verstappen si è riunito al gruppetto, quindi si sta formando praticamente un quartetto. Tio Purcher ha un buon vantaggio comunque nei confronti di Arthur Leclerc, speriamo che loro arrivino a una situazione in cui la loro gomma sia molto molto usurata e quindi noi possiamo guadagnare grazie a una gomma gialla che sarà più performante nella fase finale dello stint. Novalac si riprende la posizione nei confronti di Arthur Leclerc e questo è un vantaggio per noi perché ci consente di poter limitare i danni, Leclerc invece continua a fare i giri veloci là davanti, 2 secondi e 1 di vantaggio su Purcher che però si vede vicinissimi là dietro i piloti, i suoi avversari, Arthur Leclerc però continua a lottare con Clement Novalac e questo toglie un po' di pressione al pilota francese, bandiera gialla schianto di George Russell ma si prosegue tranquillamente, possiamo andare in media con entrambi per cercare di gestire la situazione e avere carburante per non doverci fermare troppo presto per montare la gomma intermedia. Siamo al sesto giro, Tio Purcher continua a tenere un buon vantaggio nei confronti di Arthur Leclerc, lo controlla Arthur Leclerc a sua volta ha preso un po' di vantaggio nei confronti di Verstappen, Novalac è sceso in quinta posizione, non sembra che abbia il passo gara che invece il gran passo che aveva evidenziato nelle qualifiche e in prova libera è diversa, è una diversa situazione la gara, stanno gestendo molto bene comunque la gomma rossa però in questo momento comincia a essere sempre più veloce la nostra gomma gialla con un Charles Leclerc che è scatenato, continua a fare giri veloci su giri veloci, non ha un gran vantaggio, solo i tre secondi di vantaggio ma questo comunque ci permette di fare una strategia un po' diversa e magari di fermare prima Tio Purcher per coprire gli attacchi, gli undercut da parte dei piloti là dietro e poi di fermare un giro dopo magari Charles Leclerc, ma valuteremo perché mancano ancora circa 5-6 giri all'arrivo della pioggia e poi valuteremo la strategia da adottare. Attenzione perché Arthur Leclerc già si ferma, continuerà un giro in più Verstappen, io presuppongo che Arthur Leclerc monterà già la gomma intermedia visto che la pioggia in arrivo ma sarà veramente troppo presto, potremmo guadagnare veramente tantissimo, io direi quasi quasi di mettere addirittura in bassa per queste primissime fasi e valutare come arriva la pioggia di spingere al massimo, Charles Leclerc fa ancora un giro veloce in 1-23-160, si ferma Leclerc che monta la gomma intermedia, si ferma Clement Novalac che monta la gomma intermedia, Liam Lawson forse è un taglio, sì, taglio curva, non c'è penalità per lui, però quelli che stanno montando ora la gomma intermedia saranno lentissimi e soprattutto avranno uno svantaggio incredibile perché avranno una gomma anche molto molto usurata nelle prime fasi della pioggia, mentre noi possiamo ancora andare tranquillamente molto molto lunghi, arriva la pioggia e direi a questo punto di fare questo giro più un altro con Tio Purcer, farlo fermare per montare l'intermedia, valuteremo con Charles Leclerc se fare un ulteriore giro oppure se fermarlo e fare un doppio pit stop con entrambi i nostri piloti. Quindi Tio Purcer si ferma alla fine del giro e andrà a montare la sua gomma intermedia, opzioni carburante ovviamente, andiamo a mettere per finire il Gran Premio senza problemi, 20 giri di carburante totale nel serbatoio e si ferma per coprire il pit stop degli altri, di coloro che comunque si andranno a fermare alla fine del giro per montare la loro gomma intermedia, mentre Charles Leclerc continua a gestire ma direi di mandarlo in alta perché comunque anche se fa un giro in più ha carburante a volontà, anzi anche in modalità sorpasso, ha carburante a volontà per poter spingere ancora per un ulteriore giro e poi andare a fermarsi. Tio Purcer si sta andando a fermare per il suo pit stop, andiamo a selezionare il pit stop di Charles Leclerc che si ferma alla fine del giro e va a mettere un totale di circa 19 giri di carburante, strategia del pit stop, anche per lui bilanciata. Seguiamo il pit stop di Tio Purcer, nessun problema per lui, lo mandiamo in al massimo e modalità motore media, Verstappen ha continuato per un ulteriore giro e probabilmente continuano, sì anche Zou e Colton Herta, però io presuppongo che siamo in quella zona di lotta, diciamo, tra le due strategie. Tio Purcer ampiamente davanti a Lawson che ha ugualmente montato gomma intermedia, mentre Leclerc ha perso abbastanza, così come Novalac. Guardate, Purcer ora è più veloce nei confronti di Herta e di Zou che credo si andranno a fermare alla fine del giro. Mentre per quanto riguarda Charles Leclerc, non lo stiamo facendo spingere sulla gomma, ma va benissimo così, con Verstappen che comunque sta perdendo, Charles Leclerc terminerà tranquillamente in prima posizione, mentre Tio Purcer sta andando all'attacco, sta provando perlomeno ad andare all'attacco. Charles Leclerc, seguito da Max Verstappen, attenzione perché Max Verstappen è in una buonissima condizione ora per guadagnare ulteriori posizioni e rientrare in terza posizione dietro a Tio Purcer. Tio Purcer che passa, Max Verstappen è subito dietro in terza posizione davanti all'I.M. Lawson. Per quanto ci riguarda, strategia perfetta, andiamo fino in fondo, abbiamo le nostre due vetture in prima e seconda posizione con Purcer a quattro secondi da Charles Leclerc con Verstappen, a quattro secondi da Verstappen con Liam Lawson. Incidente. Dietro Verstappen era in quarta, risale Arthur Leclerc in quarta posizione con Novalac in quinta, però io ho paura per loro perché se non gestiscono bene la gomma dovranno rifermarsi per montare un'altra intermedia. Si sono fermati veramente troppo presto. Cinque giri alla fine, Charles Leclerc inizia il ventiseiesimo giro di gara Purcer ha praticamente lo stesso passo del compagno di squadra a quattro secondi e due. Abbiamo fatto il vuoto dietro con Verstappen a quasi quattordici secondi e Verstappen è sotto attacco ad Arthur Leclerc. Arthur Leclerc che si prende ora la posizione nei confronti del pilota Ferrari. Questo dimostra quanto la Ferrari è crollata di prestazioni nei confronti della vettura della passata stagione e dell'inizio di questa stagione. Probabilmente è quasi la quarta forza. si sta giocando la terza posizione con Mercedes in questo momento. La Ferrari, visto che Verstappen è davanti a Novalac, Tictum davanti a De Gerus, ho paura che Novalac e Tictum comunque se non gestiscono bene la gomma debbano fermarsi nuovamente e forse anche Arthur Leclerc che comunque sta spingendo tanto e a quattro giri dalla fine si trova con una gomma al 27%. Molto rischiosa ora la strategia di questi piloti che si sono fermati molto presto. Per quanto ci riguarda stiamo spingendo sul carburante ma stiamo gestendo le temperature addirittura ce le abbiamo ancora troppo troppo alte. Andiamo in modalità risparmio per far abbassare le temperature delle gomme. Noi 36% conti oppure c'è Er 41% addirittura con Charles Leclerc. Abbiamo anche spinto a lungo perché ce lo potevamo permettere. Giro veloce in mano di Charles Leclerc quindi anche questa gara se non succede qualcosa di straordinario potrebbe essere un'ottima gara per noi per racimolare ulteriori punti. Schianto di Rashad de Gerus. E una Mercedes fuori bandiera gialla fortunatamente nessuna safety car perché avrebbe rimesso in gioco praticamente tutto. Siamo all'ultimo giro ma non capisco la strategia. Gomma rossa per Arthur Leclerc e Dan Tictum che si sono dovuti fermare. Probabilmente la pioggia smetterà ma alla fine della gara e ora rischiano di perdere una quantità di posizioni incredibile. Verstappen si prenderà il podio a meno che non verrà raggiunto da Novalac che è stato bravo a non fermarsi a gestire ma qui Ferrari e Red Bull perderanno una quantità immensa di punti. Intanto Charles Leclerc ha l'ultima curva e va a chiudere con un'altra vittoria con giro veloce con un'altra splendida prestazione di Theo Porcher in seconda posizione ed è ancora 1-2 per la 1-1 Racing Team che guadagnerà una quantità di punti incredibile visto il suicidio da parte di Arthur Leclerc di Dan Tiktum Arthur Leclerc con pista bagnatissima con gomma slick se termina quinto è un miracolo riesce a terminare quinto davanti a Zou non so come probabilmente perché la vettura di Zou è molto più in basso di prestazioni rispetto alla Red Bull appunto si è salvato Arthur Leclerc in quinta posizione così come si è salvato Tiktum in nona con questa strategia scellerata ma pensiamo a noi pensiamo all'altro all'ennesimo splendido 1-2 conseguito in questa gara del Regno Unito controlli da parte della FIA per noi rischio di infrazione basso nessuna regola infranta Charles Leclerc vince col giro veloce davanti a Theo Porcher Max Verstappen in terza poi Nova LaCarture Leclerc Zou Hertha Piastri Tiktum e Yuki Tsunoda con poi a seguire fuori dalla top 10 Norris Gazelich Wartman Xagoraris Lundgaard con le Zen Maloney incidente fuori per incidente De Gerus Liam Lawson e George Russell questo il podio secondo 1-2 di fila con giro veloce per Charles Leclerc con vittoria per Charles Leclerc per la 1-1 Racing Team classifica piloti Charles Leclerc in prima 83 punti di vantaggio su Arthur Leclerc e Theo Porcher con questo secondo posto sale in terza posizione nel campionato piloti e non è lontano da Arthur Leclerc 26 punti di ritardo Max Verstappen a meno 3 da Theo Porcher Dan Tiktum a meno 10 con Liam Lawson che con questo out è praticamente fuori dai giochi classifica e costruttori allunghiamo ancora 1-1 Racing Team 749 Red Bull 116 punti in meno a quota 633 Ferrari a 627 è ormai una lotta per la seconda posizione tra Red Bull e Ferrari reso conto scuderia morale manco a dirlo tutto al 100% più 811 mila euro e rotti da questo fine settimana proseguiamo la nostra dashboard per i nostri compiti della post gara ovviamente come primo compito meccanici epistop andiamo a vedere le possibili assunzioni le candidature se ci sono profili interessanti un 92 di energia con statistiche non eccelse quindi direi di rifiutare tutti e di modificare la squadra per il prossimo Gran Premio questa sarà la nostra squadra meccanici per il prossimo Gran Premio il GP dell'Hungaro Ring fra 10 giorni andiamo a vedere tutti i messaggi del fine settimana rifiutare l'intervista e possiamo tranquillamente proseguire nel calendario per la riparazione della vettura completata abbiamo un messaggio di Mark Webber di Katrin Klaas classici bug domanda a me da parte di un pilota che non è della nostra scuderia riparazione della vettura completata quindi andiamo a vedere il miglioramento dei componenti e poi proseguiamo abbiamo un freno ora al secondo posto siamo stati passati da Ferrari e il motore al secondo posto passati da Mercedes ecco perché la buona prestazione da parte di Mercedes in questo Gran Premio mentre nell'alettone posteriore siamo ancora al primo posto a noi arriva un motore tra 11 giorni e 12 ore quindi torneremo presumibilmente al primo posto poi penseremo di sviluppare un altro pacchetto freni per le gare a venire ma vedremo in seguito perché il pacchetto motore arriverà dopo la gara dell'Ungaro Ring quindi proseguiamo nel nostro calendario siamo al Gran Premio dell'Ungaro Ring e stiamo terminando il motore che arriverà tra un giorno abbiamo terminato il miglioramento dei componenti quindi possiamo tranquillamente migliorare altri componenti dal punto di vista dell'affidabilità direi queste due sospensioni e poi penseremo di migliorare gli altri elementi anche se non ci serviranno per quanto riguarda invece i messaggi di posta consumo del carburante ci chiede Charles Leclerc per la prossima stagione di concentrarci di più sul consumo del carburante perché non siamo sicuramente la scuderia migliore in questo particolare ma sappiamo che noi la prossima stagione non correremo quindi abbiamo terminato con questo episodio ragazzi se vi è piaciuto naturalmente lasciate un bel mi piace per supportare la One in One Racing Team ricordatevi anche di commentare con il pronostico riguardante la prossima gara come vedete round numero 11 GP dell'Ungaro Ring ovviamente in Ungheria e lasciate una bella iscrizione se già non siete iscritti attivando anche le notifiche cliccando sulla campanella l'episodio il prossimo episodio già lo sapete l'appuntamento già lo sapete quindi vi ringrazio e alla prossima ciao Willers Grazie a tutti